Musica Amici di Serinfesta, ballerini e amanti della musica, buongiorno e buon venerdì 15 aprile. Siamo arrivati anche a metà mese, come sempre il tempo vola anche in nostra compagnia. E allora iniziamo subito questa mattinata, lo facciamo con l'orchestra di Paolo Bertoli e il brano I sentimenti. Subito dopo l'orchestra di Stefano Frigerio, arriva con il brano È la mia vita dalla voce di Loni. Vi auguro un buon venerdì. Son valori sempre di moda, ti seguono ovunque tu vai. Rincorrono il cuore, di giorno e di notte, non lo mollano mai. Ti sfiorano la pelle e la mente, son vivi in ogni presente. Se anche gli scacci, ritornano sempre da te. Sono i sentimenti che ti fanno vibrare il cuore, che ti fanno camminare sopra le onde del mare. Sono i sentimenti che ti fanno toccare la luna, che ti fanno vedere le stelle e accapponare la pelle. Sono i sentimenti che portano gioie, ma anche dolori. Ma i veri sentimenti escono fuori nei momenti migliori. Tu non li puoi certo vedere, son sempre chiusi dentro di te. E con il tuo animo giocano sempre, e c'è sempre un perché. A volte fanno piangere gli occhi, e senti i loro rintocchi, che entrano in testa trovando il meglio di te. E se non hai ancora capito, ti dico... Mi alzo fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. E un'altra notte da scortare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale, farmi male. Ma è un vento che si placca in un momento, lascia dentro tanto freddo, insieme tanta povertà. E va... E va... Il mio pensiero se ne va... Se vuendo un volo che chassà, in quale vorrei andare a ribera. E va... E va... E la mia età che se ne va... E conto amore mio con lei... E questa vita... Che passa e dove andrà... Rientro piano e come fossi un clown. Lentamente prendo di segnare... Il cerchio rosso del sorriso... Luce bianca sul mio viso... Nuovamente pronto a cominciare... Venerdì è il giorno giusto per pianificare il vostro fine settimana dove andare a divertirvi con i vostri amici. Se dovete ancora decidere cosa fare, prendete appunti. Arrivano i nostri appuntamenti consigliati. Densi in Nevada, Terrosa di Ronca a Verona. Venerdì 15, Romeo Leopardo. Sabato 16, Stefano in Nevada, in sala 2, Cumbia Festival. Domenica 17, Oscar e Cristian, Gigi Corradi, pomeriggio e sera. In sala 2, Lattino Chizomba. Il ristorante Pizzeria e Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Notte, lo trovate in Venata 18 a settimo di Pescantina a Verona. Sabato 16, si balla con Yolanda Band. Domenica 17, baila con Cuba. Tutti i mercoledì, scuola di ballo. Tutti i venerdì, serata country. Si balla tutti sabato fino a fine maggio. Alla cover dancing, via Vittorio Emanuele, Nogara, Verona. Per info, 342-728-5383. Sabato 16, Nadia Nadì. Domenica 17, il Filadelfia. Per info, www.ballacover.it Sagra dei Sparasi di Mambrotta, Verona. Dal 20 aprile al 1 maggio. Mercoledì 20, inaugurazione festa con apertura stand gastronomici. Giovedì 21, orchestra Giacomo Zanna. Ospite Jeff, sosia di Renato Zero. Venerdì 22, serata country con DJ Alessandro Boer. Sabato 23, si balla con l'orchestra di Mirko Bellutti. Domenica 24, Micaela e il Magnifici Orchestra. Venerdì 25, biciclettata. Pomeriggio per bambini con clown girasole. A seguire alle ore 21, orchestra Salgio Cremonese. Martedì 26, mercoledì 27, apertura stand alle ore 19. Giovedì 28, serata latina con Diego Maslocco. Venerdì 29, ornella Nicolini e orchestra. Sabato 30, raduno auto d'epoca. A seguire, baracca band. Domenica 1 maggio, torneo di pallavolo e zumba. Per info, sagradisparasi.com. Sede gastronomici, vendita sparagi. Nei giorni 24, 25, 30 e 1 maggio, aperti anche a mezzogiorno. Zed Live presenta, presso il Gran Teatro Geox di Padova, sabato 16 aprile alle 21.30, Aldo, Giovanni e Giacomo. Prevendite abituali. Nasce nel 1896 la grande tradizione del Colle. Presso il punto vendita potrete trovare molte idee per i vostri momenti di dolcezza, come i pandorini, le croissants e le ottime merendine ideali per i vostri bambini. E per gli amanti del salato, uno snack sfizioso al gusto pizza, rosmarino, sesamo e cereali. Grande convenienza nel reparto seconda scelta. E ancora vini Montenegro e riso vialone nano di produzione propria. Per festeggiare i vostri momenti speciali, ideali i dolci surgelati, come tiramisù, Santa Norè, crostata di frutta e torta della nonna e molte altre specialità. Lo spaccio dal Colle, vi aspetta in via strada con l'ognola ai Colli, aperto dal lunedì al sabato, dal Colle. Ed è sempre festa. C'è chi dice che il paradiso sia solo in cielo. Adesso il paradiso è anche ai tuoi piedi. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. Calzaturificio Fiocco, azienda storica di Bonferraro di Sorgà. Creiamo e produciamo calzature donna di qualità, uniche ed artigianali, usando pellami e materiali di qualità e moda per ottenere un conforto su misura di chi li indossa. Nel nostro spaccio aziendale, aperto dal lunedì al sabato, troverete il meglio della nostra collezione. Dal produttore al consumatore. Made in Italy al giusto prezzo. Calzaturificio Fiocco, via livelli 23 a Bonferraro di Sorgà. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente e sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via H9. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno. Qui, infatti, troverete molte idee dalle più tradizionali alle più moderne. Ceramiche, rubinetterie, sanitarie, colonne per box doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità prezzo. E ancora parche, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto Outlet, con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. La merceria vi aspetta con la consueta cortesia e professionalità, presso il punto vendita via Garibaldi, spazio 3, Bovolone. Venite a scoprire gli arrivi primavera-estate, moda mare, corseteria per la sposa, trussardi uomo. Inoltre bottoni, pizzi, passamaneria e tutto per il fai da te. La merceria è aperta tutti i giorni, da lunedì al sabato, sabato con orario continuato. In un luogo immerso nella natura, situato in località Valli a Rivoli Veronese, troverete l'azienda agricola Lotto Gabriele, con produzione e vendita diretta di asparagi. Lo spaccio è aperto al pubblico tutti i giorni, per info 338 48 70 100. Solo qui troverete i veri asparagi di Rivoli, dalla terra alla tavola. Grande successo la settimana scorsa per la terza festa di compleanno dell'orchestra Katiavelli. Noi salutiamo tutti i suoi fans che sono davvero molto gentili, generosi anche con lo staff di Serinfesta. Prossimamente vedremo qualche immagine, ma nel frattempo ci gustiamo questa strappacuola. Tu, ascolta, non puoi tornare indietro anche questa volta. Non voglio più vederti arrivare alla mia porta ad implorare che hai bisogno di me. Tu, ascolta, ma quante occasioni hai avuto, ricorda, non riesci a capire che non bastano preghiere per scordare e amare di più. Sono una donna semplice e non voglio somigliare alle bambole. Per tutte le cose che dovresti cambiare, ma quante volte io dovrei cantarti questa mia canzone. Amore, 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 strappo a cuore, sei come un'onda che bagna e poi ritorna al mare. Amore, 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 amore non è un fuoco, ma è un rispetto che si guadagna poco a poco. Tu, ascolta, non sono quella che si prende e poi si lascia in tutto quello che io faccio. Non metto la mia faccia perché sono sincera con me. Tu, ascolta, domani troverai sicuramente un'altra con cui poter scambiare quello che non sai mai dare e avrà un po' più fiducia di te. Sono una donna semplice e non voglio somigliare alle bambole. Per tutte le cose che dovresti cambiare, ma quante volte io dovrei cantarti questa mia canzone. Amore, 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 strappo a cuore, sei come un'onda che bagna e poi ritorna al mare. Amore, 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 amore non è un fuoco, ma è un rispetto che si guadagna poco a poco. Amore, 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 amore... Subito dopo Sandy e Alan ci presentano La paura che ho di perderti dedicata a Marco il Maestro. Togli le scarpe prima di entrare. Mi rigni forte, senza salutare, attento al bagno, non lo sporcare, ed i pattini ricordati di usare. Amore, 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 amore esagerato, per ritornare indietro non so cosa darei. Amore, 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 amore Amore, amore, amore prepotente, amore e tanta gente, ma ti temori mai. La colazione ti porto a letto, mi guarda storto e smette di russare, e poi mi dice, ma vai a lavorare, chiudi la porta e non mi disturba. Amore, 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 amore esagerato, per ritornare indietro non so cosa darei. Amore, amore, un corno, perché mi so sposato, tu prima il mal di testa, non ce l'avevi mai. Questa non è una casa, ma è una caserma, la tromba da lattenti, ma non si tromba mai. L'avessi saputo, prima facevo firma, almeno tra gli alpini, fai festa finché vuoi. Amore, amore, amore prepotente, amore e tanta gente, ma ti temori mai. Amore, amore, amore prepotente, amore e tanta gente, ma ti temori mai. Ti sorprendo più con le mie folie, con le mie teorie, che per amarsi non per forza serve tanto tempo, ma come dici tu, saggiamente. Forse neanche qualche giorno, ma non dimentico, neanche l'attimo, qui mi hai visto lì seduto, solo ad aspettarti, non parlavi più, e te ne stavi lì. Ferma, con la paura di svegliarti, guardare insieme a te, il sole sciogliersi, e tirardarli in giro a piedi, per le strade liberi, poi non trovarsi più, sentirsi persi, con la paura di cercarsi. E allora portami a questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via, adesso scaldami in tutti gli angoli, con la tua pelle e i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi, cancella dentro me, l'incertezza, la paura che ho di perderti. La paura che ho di perderti. Ed è incredibile, se poi ripenso che, il primo bacio è arrivato come un acquazzone, imprevedibile, ma così bello, come pioggia, pioggia dopo tanto sole. Gli occhi stringevo le tue mani per ore, e ti dicevo che dalle mani sento molte cose, tu non capivi le mie parole, ma lo capisci ora, ora che non stiamo insieme. E allora portami a questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via, e adesso scaldami in tutti gli angoli, con la tua pelle e i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi, cancella dentro me, l'incertezza, la paura che ho di perderti. Di perderti. E allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via, Adesso scaldami in tutti gli angoli, con la tua pelle e i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi, cancella dentro me, l'incertezza, la paura che ho di perderti. E la paura che ho di perderti. Nasce nel 1896 la grande tradizione d'alcolle. Presso il punto vendita potrete trovare molte idee per i vostri momenti di dolcezza, come i pandorini, le croissants e le ottime merendine ideali per i vostri bambini. E per gli amanti del salato, uno snack sfizioso al gusto pizza, rosmarino, sesamo e cereali. Grande convenienza nel reparto seconda scelta. E ancora vini Montenegro e riso vialone nano, di produzione propria. Per festeggiare i vostri momenti speciali, ideali i dolci surgelati, come tiramisù, santanore, crossata di frutta e torta della nonna, e molte altre specialità. Lo spaccio dal colle, vi aspetta in via Straa, Colognola e Colli, aperto dal lunedì al sabato, dal colle. Ed è sempre festa. C'è chi dice che il paradiso sia solo in cielo. Adesso il paradiso è anche ai tuoi piedi. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. Calzaturificio Fiocco, azienda storica di Bonferraro di Sorgà. Creiamo e produciamo calzature donna di qualità, uniche ed artigianali, usando pellami e materiali di qualità e moda per ottenere un conforto su misura di chi li indossa. Nel nostro spaccio aziendale, aperto dal lunedì al sabato, troverete il meglio della nostra collezione, dal produttore al consumatore. Made in Italy al giusto prezzo. Calzaturificio Fiocco, via livelli 23 a Bonferraro di Sorgà. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente, è sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato, nello showroom a Gazzo Veronese, in via Canove. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di Arredo Bagno. Qui infatti troverete molte idee, dalle più tradizionali alle più moderne, ceramiche, rubinetterie, sanitarie, colonne per box doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ancora, parchè, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da accogliere al volo nel reparto Outlet, con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala Ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. La merceria vi aspetta con la consueta cortesia e professionalità. Presso il punto vendita, via Garibaldi, spazio 3, Bovolone. Venite a scoprire gli arrivi primavera-estate, moda mare, corsetteria per la sposa, trussar di uomo. Inoltre bottoni, pizzi, passamaneria, è tutto per il fai-da-te. La merceria è aperta tutti i giorni, da lunedì al sabato. Sabato con orario continuato. In un luogo immerso nella natura, situato in località Valli, a Rivoli, veronese, troverete l'azienda agricola Lotto Gabriele, con produzione e vendita diretta di asparagi. Lo spaccio è aperto al pubblico tutti i giorni, per info 338 48 70 100. Solo qui troverete i veri asparagi di Rivoli, dalla terra alla tavola. Un brano che impazza in tutte le piazze è Afrodite. Oggi lo sentiamo interpretato e suonato dall'orchestra di Rossella, Ferrari e Casanova. Spirta, Cumbia! Afrodite, la dea dell'amore! Ai Luigi! One, two, three, nine! Ai Luigi! Ai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti